Ciao Cappello, ciao ragazzi che seguite Cappello, vedi che ti ho lasciato un po' di roba da farmi valutare Mi raccomando, fammi sapere e aspetto le tue notizie Ragazzi, da come state notando, il meme del Pontos si sta espandendo sia in video che in live E questo è dovuto anche dagli enormi acquisti di questo mese che ammetto che sono stati pesanti da digerire Mettiamola così E da come avete visto, all'inizio video Fibrillo mi ha lasciato un po' di cose Perché l'altro giorno, che per voi sarà passato un po' più tempo È venuto sì a registrare un video della collezione dei Realize Ma mi ha lasciato anche roba Oltre a chili e chili dei comuni Perché ragazzi, ovviamente questi non mancano mai E non credo che vi farò vedere sta roba Perché sicuramente non c'è un oppression, non c'è una trapdash Non c'è niente di niente che possa effettivamente avere un valore Quindi io passerei direttamente alla roba ciotta e interessante Ma ovviamente ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri Sono sponsorizzati da Fantasia Store Il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di carte collezionabili Sì, Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon, hanno il TGC anche di Star Wars Se non ricordo male hanno un botto di roba di Orkana Dragon Ball, cioè ragazzi hanno di tutto Quindi ovviamente se volete supportarmi e avere un piccolo sconto Trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto Stessa cosa ragazzi per Genestore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese Di One Piece e ovviamente di Yu-Gi-Oh! In più hanno tanta roba esotica che io non lo so, un pensierino ce lo farei eh Intanto vi lascio il mio referral link e il codice sconto qua sotto Poi vedete voi cosa fate In più se volete liberarvi carte di Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece e l'Orkana Perché l'Orkana è un gioco bello Trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è roba interessante ovviamente se ne può parlare Detto questo andiamo a vedere Adesso che ci penso sia i soldi che gli devo dare perché non gliel'ho ancora valutata Che cosa ho preso? Allora ragazzi qua abbiamo qualche bel mucchietto di carte Per adesso non vedo roba interessante Però che ne sai cosa possiamo tirar fuori Ovviamente poi off camera guarderò anche il back di comuni Sperando di trovare, non dico una carta da un euro Ma almeno una da 50 centesimi Vabbè, detto questo andiamo a vedere Perché per me ragazzi è una sorpresa quanto per voi eh Io sta roba non l'ho ancora vista eh Potrebbero essere anche tutte così Tipo sono 40 centesimi di lotto e gli dico guarda zio Me le tengo e non te do niente No, davvero, gliele ti do Allora abbiamo costellate Mamma mia zio Ragazzi sta roba fa schifo Naturia, mascella, formica Guarda, se d'arsenale mi esce il sincro Giurac, quello che sta a 12 euro Ti dirò che non me ne privo Però per tutto il resto c'è Mastercard Allora, Aquilone, Orochi Di ma... Eh, è proprio spazzatura Intanto qua sotto potevo mettere un counter Con tipo la quantità di soldi che saliva Però saremmo a 2 centesimi 4, 6 E non mi sembra console una roba del genere Vabbè, poi qua un po' di roba Bah, come si chiama? Eh, Fire King Di dubbio gusto Perché ovviamente è distrutta Gancio Oh, già qualcosa di un pochino più modern Qua sotto c'è qualcosa Ah, un altro uguale Niente di particolare Poi asciugatura draghetto Una Cosmocittà Anatema Ah, vabbè Tutto il contrario Vabbè Intanto, ragazzi Qua non vedo niente di sensato Non so se mi converrà Anche caricarla sta roba Ma se è tutta così Non credo Vabbè Una Lady Arpia Che sotto contiene Un'altra 3 Lady Arpia Vabbè Sono da Collezione Legendary Collection Joy's World Che Qualcosina stanno Confido Allora, abbiamo Trasmodificazione Per adesso qua non mi sembra di vedere niente di interessante Ma vabbè Speriamo che i prossimi mucchi siano un po' meglio Allora, andiamo qua Abbiamo un Dominus da Dane Questo non so se sta a qualcosa Ma non credo Gaia Vabbè, questi c'erano 3 caricati Luce a salvezza Alza rango magico Vabbè Vediamo qua Vabbè Carte dado Pure i set Sono brutti Protezione Mamma mia Gau Vabbè Oh, tecniche della spada virama Considerando i supporti 6 Considerando retroformat Vabbè Ci voglio sperare che ha qualcosina stia Poi, vabbè Uh, attacco Ricaro Da Wira Super raro È buono per il retroformat Quindi ok Dai Qua dentro qualcosina di meglio Cioè Speriamo di un altro paio di attacco Ricaro Vabbè Questa qui è tutta roba da movie pack Titanocidio Da Etko No, mi sembra stia 2 euro Disturbo trappole Ultra raro Carino Poi vabbè Roba Burning Gabis Unificazione Guardia Vabbè Qua Tutta roba abbastanza Uh, vabbè Non sta niente Non sta niente Non sta niente Bello Ma non sapevo i stessi secret Che carino Io ce l'ho sempre avuto solo da MP Bellissima Starà tipo a 50 centesimi Però Nel senso Figa Vabbè Poi anche questa da back Vabbè Comunque ragazzi Se vi serve qualcosa Fatemelo sapere Perché tanto trovate tutto sul market Allora Uuuuh Eh, questa è bella Questa è una bella carta Drago mitraglio da DR3 Considerando che è comune Sta tipo a 7 euro Oh Questo fa male Questo fa male Questo fa male Non so se riuscite a vederlo Ma c'ha tutti e due gli angoli In basso sbeccati Però c'ha un bel front Penso sia una carta Da almeno 15 euro Ah Anche Una leggera grinza qua Vabbè Però Penso almeno 10 euro Li faccia Poi Adesso Non ne sono sicuro Non c'ho il market sotto mano Però È una signora carta Oh ragazzi Ma il like Il commento e l'iscrizione L'avete lasciato? A voi non vi cambia niente Ma io voi super attore A livello di iscritti Quindi bisogna Lavorarci Mettigli il cazzo in fronte Dai Su Allora Andiamo avanti Abbiamo Dominus Escuriato Quanti? Un paio di escuriato secret Che non so male Cioè ragazzi Tutta robetta piccola Non c'è niente di enorme valore A parte quel Quel drago mitraglia Però Vabbè Alla fine Quando carichi tutto sul market Tutto fa brodo Bellissimo questo L'abbiamo sia da DP Che da DR Vabbè Non stanna tanto Però Ripeto È tutta roba che fa mucchio Andiamo qua con le magie almeno Sicuramente Qua non trovo Qualcosa Che vale E ci teniamo la roba Spero più carina Per la fine Rompipesca Sfida Bocciolo Vabbè Cimitero silente Ragazzi Vabbè Invocato Marshmallow Da premium pack Che poi ragazzi Il premium pack Cioè a voi piace Rispetto al retro pack Perché Secondo me C'ha tante robe fighe Che sono sottovalutate Cioè Il retro pack Ok C'ha infinite carte Iconiche Che valgono Quanto a casa mia Però Secondo me Anche il premium pack Piano piano Potrebbe leggermente salire Soprattutto Le carte messe in buone condizioni Ovviamente Non fatele salire Prima che Finisca la collezione Perché Se no Mi tocca Venere a casa vostra Menavve Cioè Non mi sembra carino Scalper di merda Poi abbiamo Drago Fiamma Nera Loris Vabbè Virgil carino Vabbè Altra roba Uuuuuh Uuuuh Bello Trialover secret Da MP Che forse stanno a 3 euro l'uno Ma poi Ancora più interessante Le brand ed opening Queste ragazzi Non c'hanno reprint E tipo stanno a 8 euro l'una Pulitissime Questa è una bella carta Oh Una vera bella carta Buono 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 Possiamo andare avanti E qualcosina abbiamo trovata Poi abbiamo Querti Salbion Che mi sa che c'ha il 2x Non credo un'altra brand ed opening Infatti Poi Lo spadaccino di merda Neo Ladro del tempo Vabbè Questa è tutta Ananta Va bene Circular Uuuuh Domanda La DR1 Vediamo in che condizioni è Beh 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 Ehm Oneste NNM Excellent Dai C'ha qualche puntino bianco Però poca roba Considerando l'età di questa carta Me la collo tantissimo Top Diciamo che Sulle magie Che non gli davo un euro Ho visto una roba interessante Mi sta andando anche abbastanza bene Vabbè Questa roba qua Che è distrutta Sorvoliamo Esplosione Incarnazione Gaia Controlliamo un attimo Le condizioni di questo Gaia Che è da CT1 Non dovrebbe stare attanto Però è una bella carta Guardate che Che bella La foliatura secret Oh Oh Te dirò Le condizioni So pseudo accettabili Minchia Buonissima Mettiamola da parte Poi abbiamo Rains Uh Guerriero carica polvere di stelle Adesso non so L'avevano ristampato o no Sembra di no Sembra sta tipo sui 6 euro Vabbè Questo ce n'è Penso più copie Allora Abbiamo Dainaterium Già della prodigalità Vabbè Dain Mp20 Ragazzi Sta roba c'ha 60 ristampe nella Rarity Che ha ucciso il valore Di qualsiasi roba Quindi è E' anche inutile E' anche inutile emozionarsi Poi apparecchio Alcifibrax Rago del tempo Punizione Oh Ecclesia Ne ho visto una anche alla fine Quindi mi sa che c'è il playset Da Rottod Che almeno non è da Rarity E' roba di qualità Poi abbiamo Un mago nero da TN23 E questi da LC01 Questo è da DB1 Sto trovando robe interessanti Cavolo Questa è da DB1 Il fronte è bello pulito C'ha un leggerissimo Cosino lì Oh Porca troia Che carta Minchia Chiamole sleeve Che questa ragazzi Non so quanto sta Però è tipo perfetta Nel caso ve lo faccio sapere qua Porca troia Che cartina Bene bene Abbiamo questa sepoltura sciocca Dall'Art Vabbè questo è inutile Questo è un Pokémon Poi abbiamo la maga nera Mezza nuda Altri maghi neri In tante salse Dainaterium Aleister Alternative Art Un token Beh questa neanche La commentiamo Guarda No Non la rovinerò Poi abbiamo Vabbè Cyber Drago Cyber Drago Despia Trageria Poi vabbè L'Infinitrack Fortress Megaclops Che quando l'ho comprati Per farmi il mazzo Max Rarity Mi sono costati un po' Vabbè Poi abbiamo un altro Segna Mostro Cambiare idea Barriera del terreno Uh Anaconda Ma vaffanculo È fake Niente Poi tipo della vita Fleur Poi Mysterion Vabbè Cose a caso Testalos Il Mega Monarca Aprio Vabbè Poi Renju E per il resto Un Nobiluomo Attacco Io Queste buone E le altre due Ecclesia che mancavano A posto Dai 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 Ci ha dato belle vibes Questa fila Quindi non è male Poi abbiamo un po' di l'art Altri maghi neri Questa sta niente Questa sta stancazzo Cadastro Vabbè Tanto per avercelo Poi vabbè La Fortezza Granito Numero 75 Buono Che ste roba in italiano Quando Pre-ristampa Sì Se non ricordo male Li costavano tanto Tipo tutte le super T-Toc Almeno 4 euro Costavano Molta roba è stata ristampata In Battle of Legend E Il tipo Il prezzo è crollato Poi non ricordo Se anche lui Era stato ristampato o meno Allora Poi Andiamo avanti Abbiamo un Seamor Che sciabola Apparecchio Vabbè Uh Bello questo Ultra Vabbè Per il resto Vabbè Altri dei magneti gemelli Uh Raiza Raiza Super Buono Che questo qui ragazzi Quando uscì la La prima volta E sbustavano i pacchetti Di fotbo Non capivamo se era un tipo Un secret leggerissimo O se era super Perché Era luminoso Solo nella parte in oro E non si capiva Pensavamo All'epoca Che tipo esistessero Due versioni Quella super E quella secret Follia Vabbè Poi esisteva ultimate A caso Vabbè Andiamo avanti Abbiamo Altra roba Speziala Che non sta Questo è bello speziato Questo è bello Speziato E interessante Un bel calut Super Questo da astral pack Bello Bello Se non ricordo male Non è la max rarity Ma è una delle due versioni foil Perché l'altra versione È ultra rara Poi anche ultimamente Hanno ristampato raro Ma Non è la stessa cosa I giocatori di edison Preferiscono Buttare i soldi Sulle carte Perché brillano Veramente Vabbè Uh Guardiano celtico Però mi sa che questo Ha visto tempi migliori Sì sì Ragazzi E niente Non si verrà Un cazzo Ma da come potete vedere Tutti gli angoli So leggermente Andati Però ha un bel front Quindi nel dubbio Ce posso sta Andiamo avanti Abbiamo guardia Vabbè Queste robe so Oscene Leviamocene subito Vabbè sì sì Non vedo roba Che posso superare Che posso superare i due centesimi Trisciula Oh BLLR Ok Questa è buona Non è d'arsenale Però Ce posso Da Oh Vabbè Un brionac Drago polvere No Drago scintilla polvere stelle Ce l'avevo da jump All'epoca Lo scambiai Perla terreno Insieme ad altra roba Perla terreno Nobile cavaliere Che tipo Allo sneak peek Stava 20 euro E poi Nel corso di una settimana Cioè È scelta tua Uh bello Questo spaventapaste Il super Quello so è carino Questo vabbè Bene Queste so Le robe ragazzi Del box break Che abbiamo fatto Un po' di tempo fa Ha detto che non le voleva E che me vendeva pure quelle Quindi Staremo a vedere anche quelle Poi vabbè Il burattino Nese incubo Carrieroid Vabbè Qua Vabbè Questa roba L'abbiamo vista mille volte Cioè È in qualsiasi bike Di qualsiasi persona Che vuole Uh Bellissima questa Questo è interessante Questa sta a 4 euro Mi sembra Allora Poi abbiamo una lumina ultra rara Che non è super da cp Poi garut Che mi sa che è un 2x Sì 2x Tutta sta robetta Andrà a finire sul market Bella onesta Per tutti i giocatori di edison O dell'edroformat Altra robetta Del box break Poi abbiamo il burattino A pelio Cosmo distruttore Anche questi Se non ricordo male Stanno a 7 euro Perché non ci hanno Ristampa da tipo 15 anni Vabbè Roba è a caso Roba è a caso Vabbè Queste Sorvoliamo Tipo sarà il 2x Vabbè Una carta inutile Poi abbiamo Magician's Soul Da led 6 Ma tanto L'hanno ripintato in rarity Oh Che cazzo c'è Uh Un hero Ma Mamma mia ragazzi Sto hero ha visto tempi migliori Sicuramente Allora Allora Uno Uno Shura Va bene E basta Andiamo con l'ultimo Dove vedo un'altra carta Il box break Poi Abbiamo qua Penso Uh Bello questo da Blara Simpatico Poi l'hanno ristampato In Ghost from the Past E ok Vabbè Questo è da DPRP Non so se era questa Che stava qualcosina Vabbè Questo Oh Cazzo c'è qua dentro Set di figa Vabbè Playset Totalmente inutile Tanto Non sta niente Poi vabbè Pescatore Un po' di cartine Dall'art Bustina Trix Pallesemente nuda Elfi gemelli nudi Vabbè Uh Bello Caviglia del Joker Da Kiko Questa Vabbè Questa Vabbè Questo ok Roba di Digimon Ascia Vabbè Cose a caso Un paro di maghi Ristrutti Un'altra carta E basta Vabbè Ok Concludiamo guardando queste Che vabbè So Un po' di cartine Del boxettino Del Tokyo Dome Sono queste Sono quelle che hanno Il vecchio layout Poi nello stesso pacchetto Si trovavano le carte In versione ultra La normale In versione Parallel Secret Poi vabbè Queste con Il logino Del torneo Del Tokyo Dome Praticamente Sono le stesse carte In mille realità Differenti Poi vabbè Abbiamo questa Sempre layout vecchio Ultra normale E poi abbiamo Parallel Con il logo del Tokyo Dome Se non ricordo male Ci dovrebbe essere La versione Secret Che è questa E poi Abbiamo anche Ragazzi guardate quanto è bello Minchia Che cartona Abbiamo anche la versione Quarter Century Che la troviamo qua Adesso beh la faccio vedere Questa è ultra normale Ultra rovecchio Parallel Ah anche Sì ultra rodo Tokyo Dome Ve l'ho fatto vedere Minchia ragazzi Che set incredibile questo Se volete C'è qualche boxettino Da vendere O anche Delle carte singole A parte tutto Anche questo verrà caricato Poi abbiamo Queste Quarter Century Minchia Mamma mia In Giappone Per riuscire a recuperarle tutte Cioè Tutte le Quarter Century È da svenasse Veramente Stanno in mille sette In mille prodotti Collaborazioni In Italia è molto più semplice Poi molte Quarter Century Che ci sono in Giappone Da noi non credo arriveranno mai Cioè Ragazzi Non credo che Da noi uscirà questa Quarter Century Ve la butto lì eh Poi Oh Prima della fine Dei Quarter Century Konami Se ne può uscire con un prodotto Totalmente fuori Dalla logica di Konami occidentale Facile avere pure noi Però Adesso come adesso La vedo difficile Vabbè Poi queste sono Mamma mia Sortwork bellissima Sono un botto strani Cioè Fanno il giro E dici Ok Va bene Mi piacciono Me li posso accollare Qualcosa è più figo Qualcosa Meno bello Però Ci siamo E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto E fatemi sapere qua sotto Con un commento Ovviamente Cosa ne pensate Se vi serve qualcosa Ovviamente Quanto devo offrire a Fibrillo Questa roba Perché non ne ho la più pallida idea Valuterò in seguito Però intanto Voglio un'opinione anche da voi Detto questo Ovviamente Vi invito a lasciare like Commento E iscrivervi E noi ragazzi Ci rivediamo domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti